Ancora troppe debolezze politiche per un'amministrazione comunale che secondo i DEM locali difficilmente avrà un nuovo slancio nonostante l'arrivo dell'assessore Romina Morselli voluta proprio dal sindaco Lucio Greco. La prima presa di posizione sulle beghe del post rimpasto in maggioranza e sulla presunta risoluzione della crisi politica arriva dal Partito Democratico. Primo partito a innescare una crisi in giunta con la fuoriuscita dell'allora assessore DEM Graziaro Bilatte e il conseguente divorzio tra il PD e Greco. Siamo stati i primi non perché c'era una gara che uscisse per primo perché il PD ha avuto la determinazione e l'onestà intellettuale di dire le cose che non andavano e nel dire le cose che non andavano apposto le stesse perplessità che oggi pongono i partiti alleati di Greco cioè quella di un uomo solo a comando, di scelte non comprensibili e soprattutto del fatto che mancava un coordinamento tra sindaco ed alleati. Noi queste cose le abbiamo dette e un minuto dopo abbiamo lasciato l'assessorato e abbiamo lasciato la maggioranza. C'è invece queste cose chi le dice? Pubblicamente come Forza Italia ma non lascia la maggioranza. Se ne guarda bene da farlo, questo è incomprensibile. O c'è chi queste cose le dice la notte però il giorno non ha il coraggio di ripeterle al sindaco. E quindi posso dire a ragione veduta che probabilmente noi siamo stati sicuramente più corretti. Siracusa valutando l'addio di Liberamente che ha preso le distanze dal gruppo di maggioranza ma anche altri posizionamenti all'interno degli Arcobaleno dopo l'arrivo della Morselli conferma così la sua analisi. Parlare di crisi di un'amministrazione comunale potrebbe essere anche irrisibile e probabilmente la gente non lo capisce neanche o quantomeno non gli interessa della crisi dell'amministrazione greco. Io sostengo che ancora la crisi dell'amministrazione greco non è stata risolta. Cioè siamo in piena crisi. Probabilmente o sicuramente tutti gli assessorati sono riempiti. Ogni casella c'è un nome però secondo me dalle ultime scelte dimostra che il sindaco è sempre più solo perché è come se si fosse chiuso in se stesso. Una crisi interna quella dell'amministrazione che secondo il segretario Dem si acquirà nelle prossime settimane quando la campagna elettorale per le regionali di novembre entrerà nel vivo. Si accentuerà sempre di più il divario e la crisi all'interno dell'amministrazione comunale soprattutto tra le varie componenti perché è ovvio che ognuno di loro vuole pagare gli interessi della pubblica amministrazione ad un interesse politico. Quindi è ovvio che le ultime scelte sono fatte in questa chiave di lettura e sicuramente questa cioè quella di rafforzare il nucleo rispetto del sindaco. Siracusa inoltre sembra voler rimarcare la distanza ormai totale dall'aggiunta dell'avvocato greco. Il Partito Democratico sta investendo molto sui giovani e quindi noi abbiamo la necessità e abbiamo soprattutto la voglia di essere chiari e netti. Lo siamo sempre stati nei confronti dell'amministrazione greco seppur votata anche da noi però quando abbiamo deciso di uscire lo abbiamo fatto, lo abbiamo spiegato alla città, ce ne siamo rammaricati e abbiamo detto le cose che non andavano. Invece oggi sta succedendo che molto polvere è messo sotto i tappeti, c'è un chiacchiericcio notturno che non va bene alla città, alla fine di tutto quello che è la politica e di tutti i rituali politici, alla fine secondo me rimane una grande insoddisfazione da parte di tutti i soggetti che oggi fanno parte di questa amministrazione e prima o poi riscoppierà un'altra volta la crisi.